Roberto, la prima partita di questa stagione vi ha fatto un po' già capire quella che sarà il campionato di eccellenza, un campionato duro e da affrontare, come ha detto Epomante, con l'atteggiamento giusto. Lo sapevamo che era un campionato duro e che tutte le squadre ci davano filo da torcere. Penso che la prima partita sia stata di esperienza per tutti noi e spero che non ricommetteremo lo stesso errore. Siamo già proiettati a domenica per passare il turno. Ci sarà appunto da rimontare con almeno due gol di scarto, stando attenti anche a non subire gol. In questo tu sei implicato direttamente. Sì, abbiamo già parlato con la squadra. Il mister sta già preparando la partita per domenica. Ora sappiamo com'è la squadra avversaria e non commetteremo gli stessi errori. Sicuramente la società ci ha chiesto di vincere tutte le partite e noi, essendo il Teramo, dobbiamo rispettare questa cosa e ce la metteremo tutta per provare a vincere tutte le partite. Una squadra che è cambiata comunque abbastanza. Tu hai ritrovato la stessa linea difensiva, parte Speranza, insomma, che adesso ha un altro ruolo. Sì, vanno comunque sempre con noi. Ci aiuta molto da fuori. Mi trovo benissimo con Alfonso e Cristian, ma anche con Davide e Daniele che sono entrati, oltre a Matteo, che sono entrati da poco. Mi trovo alla grande e speriamo di fare parecchi risultati, anche senza prendere gol.